Gatti forse ci se lo aspettava, forse no, c'erano insomma anche sintomi della possibilità che Brucchi si dimettesse, altri pensavano no, per questo consiglio tutto andrà liscio, insomma morale della favola, Brucchi ha deciso per le dimissioni. Il suo punto di vista su questa scelta qual è? Io comprendo, capisco l'amarezza e anche la stanchezza, ormai dopo tre anni che ci si trascina un po' e in questa maniera, l'ho detto io, mi ero già stancato da un bel po' di questo andazzo, continuo a non capire qual è l'interesse della città, o almeno quale viene ritenuto essere l'interesse della città. Commissariamento come quello che potrebbe esserci di, adesso qualcuno dice che non sono 450, saranno 430 giorni, è una cosa molto negativa, sarebbe una cosa molto negativa per la città, è un grosso danno. Spero che si possa ancora evitare, ma questo dipende dai consiglieri comunali, se hanno voglia di consigliare, se hanno voglia di sostenere per esempio un programma anche per un periodo, se invece si continua ancora con la storia delle poltroni, chi sono gli assessori, se uno è biondo, è bruno, se è maschio, è femmina, credo che sia una cosa che ha stancato la città più di ogni altra cosa. In estrema sintesi, Gatti, lei invita i consiglieri, quantomeno quelli del centro-destra o presunti tali, a ripensarci affinché Brucchi possa ritirare le dimissioni? Io faccio un auspicio, poi facciano un po' quello che credono. Il mio auspicio è che penso che in fondo al cuore tutti quanti abbiano interesse per la città, per la comunità in cui si vive e possano trovare le ragioni dell'interesse collettivo e dei cittadini. L'interesse, insomma, sostenere che l'interesse è un commissariamento interminabile così lungo, francamente mi sembra un po' difficile, quindi speriamo che ci possa essere un senso di responsabilità, un punto di caduta di questa faccenda. Gatti, in fin dei conti una certa responsabilità è anche vostra, intendo lei, Tancredi, perché spesso e volentieri sono stati nominati capi bastione, quindi anche lei probabilmente rientrava in questa definizione. È colpa vostra? Anche voi avete contribuito a tutto ciò? No, forse è colpa mia aver fatto una lista che ha eletto molti consiglieri, qualcuno più attento, qualcuno più frizzante. Dopodiché, nell'andazzo di questi tre anni, noi di che ci siamo occupati? Ogni tanto siamo stati chiamati per cercare di sedare un po' di intemperanza, evidentemente non siamo riusciti a sedarle, ma dopodiché non facevamo nel sindaco, negli assessori e nei consiglieri. Abbiamo cercato di dare consigli, forse qualcuno l'avremmo dato anche sbagliato, insomma, un po' poco per crocifiggere qualcuno.